È una progettualità molto utile alla Regione Liguria, partendo dal fatto che ci sono 130.000 cittadini che vivono in 100 comuni in Liguria nelle cosiddette aree interne. Questo progetto vuole garantire a tutti i cittadini, laddove vivono, servizi di teleassistenza, telemonitoraggio e telemedicina per tutte quelle patologie che oggi caratterizzano la nostra Regione, lo scompenso cardiaco, le patologie respiratorie, i pazienti diabetici, persone portatrici di istomia, persone con lesioni cutanee. In questa specificità gli infermieri si mettono a disposizione per la funzione di monitoraggio, di consulenza a distanza, così da rispondere alle domande, ai bisogni dei cittadini, dalle loro sicurezza e aiutarli ad una aderenza terapeutica su quelle che sono le indicazioni del loro medico. È una funzione strategica perché la Liguria è un laboratorio al quale guardano da tutta Italia e direi tutto il mondo e in questo senso la risposta assistenziale che si potrà dare con queste metodologie digitali è davvero appropriata alla domanda che esprime il cittadino.